Alessandro Sancino, uno dei promotori di questo corso di formazione politica, in questo momento in cui il panorama politico dà di sé un esempio veramente negativo, voi andate un po' a controttendenza proponendo invece un corso per attirare i giovani alla politica, come mai? Perché c'è bisogno, come hanno detto persone autorevoli, di una nuova generazione di politici impegnati nelle istituzioni, ma soprattutto consentitemi uno slogan, c'è bisogno di tanti nemici della casta. Io mi sento un nemico della casta, ma per essere veri nemici della casta occorre conoscere come funzionano le istituzioni, avendo delle conoscenze di storia, delle conoscenze di economia, di urbanistica, di politica, affinché veramente la casta venga sconfitta sul suo terreno. Non è solo con dichiarazioni giornalistiche che si batte la casta, ma è stando lì, insieme a loro, stanandoli quando vanno a utilizzare i soldi dei cittadini per i loro interessi. Per questo occorre tornare alla serietà, alla sobrietà e soprattutto al senso del sacrificio, quindi allo studiare come si fa politica, studiandolo un po' sui libri, un po' ascoltando autorevoli personaggi e un po' anche stando tra i cittadini, ascoltando le loro esigenze e provando a risolverle. Quali sono i contenuti che proporrete a questi giovani? Una lezione di storia e una lezione di attualità, conoscere le tradizioni per progettare il futuro. È un corso assolutamente trasversale che vuole dare una visione super partes affinché i giovani che vi partecipano possano con capacità critica farsi le proprie idee ed imparare delle soluzioni gestionali che vadano veramente a migliorare la vita dei cittadini. Solo se ci sarà questo tipo di politica, una buona politica, potrà ritornare la credibilità da parte dei cittadini nelle istituzioni. E noi con questo corso vogliamo veramente dare un piccolo segno di speranza.